Bene, prendo un bello strumento e suona Ma voglio, non è subito No, no, davvero, sì ma non ci sentirei in imbarazzo Ser, re, andiamo, re, grande e me Ehm, ho contato le armi, ne mancano assai male No, 6 anni, 1.2 Sì, se arriviamo, le riprende a 2 Sì, se arriviamo, le riprende a 2 Sì, se arriviamo, le riprende a 2 Sì, se ne ha dato, mi porta a pensare che probabilmente è la maniera Infatti, appena è andato assurto alla maniera, lui è comparso Ma ci sta venendo qualche Con incidenza?